Valbrenta, al via nei comuni della Valsugana interessati dalla fusione degli enti territoriali ad una serie di incontri volti a spiegare il progetto di unione dei cinque comuni in un'unica realtà, il comune della Valbrenta. Il 16 dicembre è in programma il referendum consultivo. Momenti di confronto e dialogo sono stati programmati per venerdì 30 a Campolongo, il 3 e il 7 dicembre a Cismon, il 4 a San Nazario, il 7 a Valstagna, a lunedì 10 dicembre toccherà a Solagna. Ultimo incontro il 12 a Carpanè di San Nazario. Bassano, l'amministrazione comunale punta sul Natale per incentivare la presenza di turisti e agevolare l'arrivo di visitatori in centro storico. E si parte dai parcheggi e dai trasporti. Da sabato 1 dicembre a domenica 6 gennaio le prime due ore di sosta al parcheggio le piazze saranno gratuite, mentre dal 23 dicembre al 6 gennaio il trasporto pubblico locale delle linee urbane, compreso il bus navetta, sarà gratuito. L'investimento è di 45 mila euro. Asiago. Risultato storico per il consorzio tutela formaggio Asiago, che annuncia il pieno riconoscimento della tutela della denominazione Asiago in Messico nell'ambito dell'accordo tra Unione Europea e Messico. Partiti da una situazione difficile nella quale la mancanza di una tutela legale e un dazio del 120% rendevano di fatto impossibile l'ingresso nel paese si è giunti al pieno riconoscimento e protezione del formaggio in tutto il paese. 9. Viaggio della delegazione dell'Associazione ceramisti italiani in Cina, Fuping. Il viaggio ha permesso di definire i punti cardine della futura collaborazione tra la ceramica italiana e quella della realtà orientale. Nelle prossime ore visita il sito e incontro con le autorità governative. Hanno partecipato al viaggio il sindaco di Nove, Chiara Luisetto, e l'assessore bassanese Cristina Busnelli.